Il parquet del Nacra è semplicemente perché è la barca più divertente che ho trovato e l'unica che lascio olimpica che posso fare con il mio peso e con la mia età come Santiago Lange è il mio eroe già prima era un bravissimo velista, adesso per tutti ha vinto l'oro a 54 anni e mi ha dato una marea di forze interiore per riuscire ad andare avanti anche mentalmente questo progetto non è facile fare Big Boat e Nacra perché i giorni all'anno sono quelli sono già via da 30 giorni, devo restare via altri 30 giorni dall'Italia se vado a Monte Carlo, dopo vado a fare una regatta a Caribe, dopo torno qua a Miami dopo vado a fare l'Italia, non c'è mai un attimo di buco per cui le energie sono quelle quest'anno sarà così e poi nel futuro uno valuta le aspettative nelle varie classi e poi decide di fare al 100% un programma ho cominciato la Nacra nel 2014 con un'altra squadra mio amico Giovanna Micho e abbiamo partecipato nella ultima campagna ma abbiamo incontrato una forte squadra, Vittorio Bissaro e Silvia Sicuri è stato molto veloce, per noi è stato molto veloce questo anno è stato cominciato qui con la nuova squadra Siamo trainati molto oggi, più o meno 20 giorni prima qui, in Italia, con un altro team. Questo è probabilmente l'inizio in Campaia, ma non siamo sicuri perché abbiamo bisogno molto di budget. Per quanto riguarda il rischio, il budget è molto caro e ora troviamo il budget. Siamo in una buona expectativa, ma non siamo sicuri.